Buongiorno, sono molto felice di essere qui in Hyderabad, rappresentando l'Italianza Cultural Center. Come sai, l'Italian film sarà l'opera per la 18e edizione del film europeo in Hyderabad. È un'occasione molto importante per mostrare l'indietro il cinema europeo in generale, perché come siete in India, in Europa, siamo uniti in diversità. L'indietro vedremo 24 altri film, da 24 altri paesi europei, in cui si ascoltano a diverse lingue, 24 diverse lingue, e si vedremo altri film su un tema generale, che è celebrare le donne. È l'edizione del festival europeo, come ho detto prima, e siamo molto felici di andare in questo processo, perché proviamo a promuovere un concetto unico concepto della cultura europea, perché, questa è la mia esperienza in India, abbiamo realizzato che l'indietro pubblico non è capito di cosa è la Unione europea. Quindi noi, la delegazione europea e i paesi che sono membri dell'Unione europea provano a promuovere l'indietro pubblico questa idea dell'Europa. Quindi speriamo che l'indietro pubblico ci sia un'indietro pubblico, che sia un'indietro pubblico che è l'Europa. In Hyderabad, ho scelto che c'è questa collaborazione tra Goethe Centrum e l'Allianz Francaise, con l'Annapurna Internazionale Film School per Film e Medià. E ho stato molto apprezzato, e sono molto felice. E ho provato da DELI, dal l'Italiano Ambassi Cultural Center, di collaborare anche con l'Annapurna Internazionale Film School per Film e Medià. Perché, loro, hanno scelto la nuova generazione per il compito non solo dell'indietro, ma anche dell'U.S. e dell'Europa. Quindi sarebbero più felici di collaborare con loro nel futuro. Ho spero di continuare a collaborare con l'Europa FESTIVAL. E, da nostra parte, speriamo di iniziare una collaborazione con loro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.